eccoci qua nostra penelope dici qualcosa è la penelope col fustino cos'è oggi perché devo frustare qualcuno hai fatto cadere tutto è frustato che hai fatto da non si vede più niente nella foga del suo il fruttino non mi ha premiato aspetta sistema tutto dobbiamo fare la verifica se si vede un casino è anche rotto il supporto aspettate un attimo vediamo se riesco adesso si vede dall'alto che è messo sembra che sto facendo stiamo vedendo dall'alto stiamo vedendo dall'alto penelope aspettate vediamo se riesco a sistemare questo altro ecco è tornato se tornare rimetti tutto apposto dobbiamo fare la verifica abbiamo la nostra sarà molto difficile che riesce a reggere probabilmente cadrà di nuovo durante la diretta qua ma come allora vi spiego mentre frustavo il supporto del telefono ho dato una frustata eccessivamente vigorosa eccessivamente vigorosa e quindi il mio rigore vediamo se messo a posto sul supporto no come proprio perché si è rotta la terza gamba adesso cercherò allora come potrei fare se mi aiutate a trovare una soluzione estemporanea vediamo se se riesco a farlo reggere lo stai danni fa i dati il penelope fai danni col tuo ne faccio devo dire che ne faccio diversi di danni soprattutto in questo periodo ne ho fatti veramente tanti di danni potete capire quanti ne ho fatti di danni allora io mi devo invitare quando adesso ci metto la bottiglia del te magari si regge la bottiglia del te non lo so sto certo oggi sono cioè sarà un po sbilenca la registrazione vabbè vediamo vediamo potrebbe reggere non toccare più niente basta basta ferma 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 così che adesso si sembra che si veda non far danni non far danni potrebbe reggere non far danni non far danni proviamo se dovesse cadere se dovesse cadere tutto improvvisamente e sapete che sono ancora viva va bene va bene adesso chiudiamo fare danni ma no non lo sappiamo se ti taglia adesso vediamo 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 ferma lì ok vediamo vediamo non far danni parla un po di qualcosa per cali fragilissi che finali cosa va bene chiudo dai vediamo un po